Pubblichiamo l'intervista a Salvatore Piconese, segretario provinciale leccese di articolo 1, MDP. L'occasione è data dalla conferenza programmatica prevista lunedì 2 ottobre alle 17.30 all'Hotel Tiziano, a Lecce, alla presenza del vice coordinatore nazionale Arturo Scotto. A Piconese abbiamo chiesto di dirci qualcosa sull'organizzazione del partito, sul lavoro per la costituzione di una lista unica in vista delle elezioni politiche del prossimo anno. Ma non potevamo non chiedergli, anche un commento su una frase pronunciata dal segretario nazionale De Matteo Renzi l'altra sera a Lecce inerente la sinistra e il socialismo. La chiacchierata ha inoltre toccato la questione TAP, ovvero cosa ne pensa articolo 1 del discusso gasdotto il cui approdo è previsto a San Foca. Con stoccata indirizzata al viceministro Teresa Bellanova, e al senatore Dario Stefano. Fuori dal PD non c'è la rivoluzione socialista, ci sono Salvini e Grillo. Lo ha detto Renzi a Lecce, intervenendo a un'iniziativa con Stefano e Bellanova. Le va di commentare questa affermazione, segretario? Renzi fa solo propaganda, nella realtà, invece, è preoccupato dal risultato, che potrà uscire dalle urne alle elezioni politiche della prossima primavera. Perché, al contrario di quello che lui dice, fuori dal PD c'è un popolo di sinistra, fatto di donne e uomini in carne e ossa, che si è ribellato al suo rozzo tentativo di rottamare la cultura politica legata alla storia della sinistra, e del movimento operaio italiano. Quel popolo, oggi, ha avviato un processo politico per dar vita, in Italia, a un nuovo campo democratico e progressista, alternativo al renzismo, e al PD.